5, 4, 3, 2, 1 Andiamo! Ce lo fai vedere il suo trailer? Eh, dai, vediamo Inizia bene Inizia bene Inizia bene Mi piace Mi piace, mi piace, mi sta piacendo No, ci siamo, ci siamo, ci siamo Sono i Knife Non avrei mai pensato Ad essere i Knife per un film di Mario Ah, la voce è bella Bellissimo Bell La voce ci sta Ci potrebbero mettere l'italiano I pinguini Cazzo è bellissimo, eh Ma è bello rosso-blu Ma sono i pinguini di Mario 64? Ah, ah, ahaha Ah, 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 ah Ah, ah, ah I finally found it Now who's gonna stop me? Ahah Ah 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 Oh Hm Ah Is Ah 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 Cos'è che sto posto? Nel 2023 è già finito Stiamo dando gli ultimi ritocchi come accade per i giochi in Nintendo No bello, è finito praticamente, è già finito il trial Bellissimo, ma io come mi ha convinto Quando è uscito Mario, lì per lì non ci ho pensato al fatto che in genere Mario parla con la voce Cioè ci stava la voce così, capito? Cosa c'entrano pinguini? Non lo so, non lo so nemmeno io Ma ha ricordato i pinguini di Mario 64, però non lo so Rivediamolo, giusto? Cioè potrebbe essere l'inizio di un gioco questo qui, eh Un gioco di Mario ovviamente Questa cosa qui mi ha ricordato un po' l'ultimo, quello, come si chiamava? Bowser Fury Fatta benissimo l'animazione anche Bello il rumore del metallo quando prendo in mano lo scettro A livello altissimo, eh Guarda bello il pelo qui, bellissimo Lui comunque è uguale a giochi, eh Non è che l'abbiano cambiato mi sembra Open the gates! Sta voce ci sta, la voce così ci sta Cioè non sembra neanche Jack Black a dire la verità Non saprei chi possa mettere in italiano Qui guarda come è bello i pelini Che bello Ti pelucchini Se vai su un'universa Pictures c'è il Tyler Doppiato italiano? Davvero? Il re dei Koopa Aprite le porte! Comunque questa qui Può anche essere una scena fatta apposta per il trailer Potrebbe essere una scena che non è parte del film Perché mi sembra proprio una scena Che ha un inizio, uno svolgimento e una fine Quindi non credo sia una scena presa dal film Probabilmente è proprio un teaser fatto così Comunque lui Io non so se è un'impressione mia Ma mi sembra Cioè somiglia a Boboskin veramente Che è quello del film L'hanno reso somigliante a Boboskin? Oh è una mia impressione Boboskin alla fine per far Mario era anche azzeccatissimo Cioè era lui Cioè veramente è lui È lui proprio Comunque lui arriva nel regno dei funghi Quindi da dove arriva? Cos'è questo posto? Però vedi non ci sta male il fatto che lui non parli Yahoo! Così Non credevo Oh perdonami Questo lo puoi anche toccare Oddio la voce chi è? Cosa? È Nani Baldini? Non toccare quel fungo Morirai! Oh perdonami È Nani Baldini Questo lo puoi anche toccare Regno dei funghi Arriviamo È il doppiatore di Cosa? È il figlio di Marco Mete È il doppiatore di Chris Pratt lui Mi si chiama Andrea Mete Che ha la voce molto simile al babbo Al padre insomma Andrea Mete Regno dei È lui È lui È lui Si sente quando dice La E ce l'ha uguale a su pa È totalmente lui Poi oh E non è detto che le voci definitive siano quelle Non capisco perché la scritta super non sia scritta col font di Mario Quando tutti i giochi si chiamano super Mario Bros Con la scritta uguale Mi garba un sacco qui Questa scena qui con Luigi che salta sulle piattaforme Dà proprio l'idea del gioco Di lui che deve saltare sulle piattaforme Ma mi dà l'idea proprio che qui Miyamoto è andato lì con legno Ha detto lo fate come voglio io o niente Capisco chiaramente i materiali super dettagliati È bello Insomma vista l'artissima risoluzione che puoi avere Addirittura guarda la salopette Tutte le 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 grinse Anche troppo secondo me no Che poi nel film nei giochi di Mario non c'è tutti sti funghi poi Cioè il regno dei funghi ma non c'è tutti sti funghi Sì sembra un po' un po' fin È bellino però Cioè non voglio dire che siamo di fronte al discorso di Sonic È molto bellino È un po' rimodellato Non saprei bene un ED Però per esempio il Todd è abbastanza uguale La pelle non è realistica È bellino Sembra un po' di plastica Prendi uno skin di Mario Odyssey Questo qui Allora Andiamo Mario La testa è più piccola La testa è più piccola e le gambe sono più corte Sì le proporzioni sono un po' più realistiche Ma no di tanto però eh Comunque Cioè per fare un lavoro del genere Ci vuole comunque tanto tempo Perché non è una cosa che dall'oggi al domani Dici bah metti la testa un po' più piccola Se l'hanno fatto penso che ci abbiano Studiato parecchio Però non mi dispiace per niente questo Mario qui eh Bellino Nei direct hanno detto che da sette anni ci lavorano Io spero la storia A me interessa più caldo la storia che sia bella Cioè spero non sia una storia lì E di ah bellino il film di Super Mario Battosina Le cazzate Beh ma è bello No Io spero ci abbia anche una bella storia Capito Comunque cioè lui finisce nel regno dei funghi Quindi presumibilmente è arrivato da un regno dove ci sono degli umani Da un regno dove vivono tante persone come lui Insomma sarebbe bellino Cioè alla fine è come il film del 90 alla fine no? Però lì erano persone vere vabbè lasciamo perdere Però immaginatevi una timeline dove il film del 90 al 91 Quello è non esiste Io un po' sono contento che quel film lì esista Perché è talmente un troiaio E talmente meme Che Meno male che esiste per film Oh c'è Vito Sono un po' più realistici perché sicuramente Mario e Luigi vivranno nel modo reale E sanno caputa Sì però la domanda che dico io è Che non voglio Cioè io non sono contrario a questo design Mi piace però Quello che dico io Perché non puoi fare un mondo dove c'è questo design qui Che è un po' più Non saprei neanche come dire Forse l'hanno fatto perché questo design qui è un po' più giapponese Non lo so Che comunque è una differenza sottile Però c'è Io Prima se noto è La testa più grossa Che nel film è più piccola E il corpo Che qui c'è proprio una pallina È fatto proprio a pallina il corpo di Mario qui È proprio una pallina Mentre qui è un po' più Un po' più realistico C'ha la camicia Guarda c'ha la camicia Io guarda non mi aspettavo Non morirai Una qualità del genere Credo serva un po' di stacco tra un mondo più reale e quello super fantasioso Nei giochi si sono il regno dei funghi Si può darsi Però il mondo dei funghi stesso è più realistico Cioè qui vedi che proprio ci sono i funghi che sono Sono molto più dettagliati dei funghi di Mario Che sono funghettini dei puffi Qui si vede proprio che sono amanite C'è proprio i dettaglini Addirittura ci hanno fatto le lamelle Le lamelle Oppure si vede che anche qui C'è tutto frastagliato È molto dettagliato come Guarda lì c'è l'erba I fiori E hanno fatto veramente un gran lavoro Perché nonostante il mondo sia più realistico Todd ci si mescola bene Vedi anche Todd Gli hanno fatto le frastagliatino anche su lui Sul cappellino Cioè non stona Talla lana Il tessuto I vestitini Si vede le cuciture dei vestiti Qui c'è il castello di Peach sulla collina Che si era vista già nell'immagine del poster di ieri Bellino Questo è l'esordio di Nintendo Pictures Per Sony è stato il film di Uncharted Che poi io non mi aspetto che Nintendo si metta a far film A tutto piano Farà uno ogni tanto Magari farà qualche serie Potrebbe fare delle serie animate Piccole Non mi aspetto Cioè se ci hanno messo 7 anni a fare sto film di Mario Ci metteranno altri 7 per farne un altro Non mi aspetto il film di Kirby Non lo so Il film di Donkey Kong Ora solo Crash deve avere un film Crash basterebbe anche una serie animata di un minuto a episodio Sì è vero ci ho pensato anch'io C'è un fattore abbastanza ovvio da considerare Che un Mario leggermente diverso Genera merchandise da sé Altrimenti indistinguibile Che è quello che hanno fatto con Sonic Di Sonic c'è proprio il merchandise del film Forse perché siamo abituati All'occhiata A Mario così Che ci siamo talmente abituati Che appena cambiano qualcosa Si nota subito Però non è che è diverso C'ha delle proporzioni un po' riviste Ma anzi è molto carino Ci sta Magari è un design che si abbina A questa scelta stilistica Di avere un ambiente Iper dettagliato E' bellino sto Mario qui E' molto cucciulosino Non so come dire E' quasi quasi Sì anch'io preferisco questo qui alla fine Ci vorrebbe un gioco di Mario Con questa grafia qui Che va sulla Switch L'accende e esplode It's-a me It's-a me It's-a me